Rinviato a domani mattina il previsto vertice romano sulla vertenza ITR, saltato all'ultimo momento a causa della coincidenza oggi con il tavolo ministeriale per la vertenza Electrolux, l'industria svedese di elettrodomestici che vuole ridurre i costi dei suoi stabilimenti italiani. Domani quindi sarà il turno dell'ITR e la novità è quella del ripensamento di Antonio Bianchi e Giovanni Petrollini che saranno presenti al tavolo ministeriale per rappresentare l'azienda. Sembrerebbe che a far cambiare idea l'imprenditore Comasco sia stata la prefettura di Sernia che lo ha invitato caldamente a non disertare l'incontro romano dove si deciderà sul futuro dei dipendenti ITR fin quando non ci sarà la risposta dei giudici sul concordato almeno dichiarandone l'ammissibilità che è poi il passaggio fondamentale. L'altra notizia è quella dell'interrogazione presentata da Danilo Leva, deputato del Partito Democratico, che ha chiesto al governo il riconoscimento dell'area di crisi per i distretti industriali di Campobasso Boiano e Isernia Venafro, in modo da poter superare i limiti attualmente previsti per la cassa integrazione. Se venisse riconosciuta l'area di crisi potrebbe essere finanziato un altro anno di cassa integrazione straordinaria. Da qui il necessario pressing da fare sul governo letta. Domani a Roma saranno presenti praticamente tutti i parlamentari, delegazioni del governo regionale, sindacati, RSU, i sindaci dell'Isernino capeggiati da Brasiello e i rappresentanti dell'ITR Bianchi e Petrollini. La partenza dei pullman, organizzati dai sindacati, è prevista per le 6 nel parcheggio della piscina di Isernia.